La risurrezione di Gesù Leggo il credo apostolico Gesù nacque da Maria Vergine Partì sotto Ponzio Pilato Fu crocifisso, morì Fu sepolto Discese agli inferi Il terzo giorno risuscitò da morte Salì al cielo Siede alla destra di Dio Padre Onnipotente Così recita il credo apostolico Beh, la vita di Gesù Nacque da Maria Vergine Poiché partì sotto Ponzio Pilato Fu crocifisso, morì Ebbè, è descritto dai Vangeli Sicuramente è una cosa storica E sicuramente non c'è fatica a credere Che abbia detto e fatto tante belle cose La risurrezione è difficile da comprendere Tutti noi lo sappiamo È difficile credere nella risurrezione Però anche il fondamento del nostro essere cristiano Come dire siamo cristiani Proprio perché crediamo nella risurrezione di Gesù E nella Pasqua Che tra qualche giorno Celebreremo questo mistero fondamentale Del nostro essere cristiano Ma volevo riprendere Dice la catopedia Catopedia è un'enciclopedia che si trova online Cattolica Difatti ha proprio il nome Catopedia Quindi vuol dire Secondo la dottrina cattolica Leggo la definizione di catopedia Gli inferi sono Nel linguaggio dell'antico Del Nuovo Testamento E dei simboli della fede Credo apostolico Il soggiorno dei morti Non vanno confusi con l'inferno Che è il luogo della dannazione eterna Noi siamo più abituati a parlare di paradiso e inferno Gli inferi è il regno dei morti indistinti Prima del giudizio cosiddetto finale In cui verranno divisi i buoni dai cattivi Allora gli inferi come il regno dei morti I greci lo chiamavano l'ade Regno dei morti Potremmo dire che Gesù è veramente morto E come tutti i morti È andato nel regno dei morti Nascendo da Maria È diventato una persona umana come tutti noi Andando negli inferi È diventato un defunto tra i defunti È bello che come persona umana Gesù è vicino a noi nelle nostre difficoltà Nelle nostre sofferenze Nei nostri problemi Gesù come defunto Nel regno degli inferi È vicino al nostro morire È vicino al morire delle persone Vicino al morire degli innocenti Vicino agli uccisi nelle guerre Pensiamo agli uccisi militari e civili Di questi giorni nella guerra in Ucraina Gesù è vicino Perché anche lui ha sperimentato L'andare negli inferi Si è sporcato Possiamo dire le mani Con le nostre difficoltà Con i nostri problemi Con i nostri peccati Con la nostra morte La novità poi di Cristo È la sua risurrezione Certo E questo è il fondamento Della nostra fede Ma viene da dire Gesù non è risorto da solo Ma è risorto Con noi Ha messo in noi Un segno di risurrezione Esprimo bene questo concetto Che Gesù è risorto Insieme con noi Le icone orientali Che ritraggono La risurrezione di Cristo Se noi ne guardiamo Una tra le tante Basta fare una ricerca Su internet E se ne trovano tantissime Sovente queste icone Fanno vedere Gesù Vestito di bianco Che sta salendo dagli inferi E gli inferi Sono disegnati in basso In nero Anzi Sono disegnate anche Le porte degli inferi Che Gesù ha rotto Perché Nell'immaginario Il regno degli inferi È un luogo ben chiuso Da cui una volta entrati Non si può più uscire Invece Gesù Avendo rotto Le porte degli inferi Lui ne è uscito Ma dà anche a noi La possibilità La possibilità di uscirne E poi Sempre nell'icona orientale Normalmente si vede Gesù Che salendo Risorgendo Vestito di bianco Tira su Dalla mano destra E dalla mano sinistra Tira su Adamo ed Eva Adamo ed Eva Che sono i nostri progenitori E quindi Nei nostri progenitori Siamo tirati su Siamo tirati su Tutti noi Viene qui un confronto Con le pitture Nostre Occidentali Per esempio Vediamo qui La risurrezione di Cristo Di Piero della Francesca Beh in queste pitture Occidentali Del 500 600 Dipende un po' Dei vari secoli Sovente Gesù Risorge da solo Risorge da solo Magari ci sono I soldati Come in questo caso Che stramazzano per terra E invece È bello Queste icone orientali Che dicono Gesù che non risorge da solo Ma risorge insieme Insieme con noi Dicevo Stiamo avvicinandoci Alla Pasqua Pasqua Passaggio Da morte a vita di Cristo Certo Gesù che risorge Pasqua Quindi è la possibilità Che Noi abbiamo Di passare Da morte a vita Lasciato Lasciatoci da Cristo La possibilità di Uscire dagli inferi Tornare a vita nuova Continuare la vita nuova Ma uscire dagli inferi Già adesso Già adesso Quando io mi tolgo Dal negativo Quando io mi tolgo Dal pessimismo Quando io mi tolgo Dalle cattiverie Esco Esco dagli inferi E ringraziamo Se Gesù è disceso Negli inferi Per aiutarci A uscire Dal nostro Dal nostro Regno dei morti Dal nostro Dal nostro Inferi Che abbiamo Giorno per giorno Ho voluto condividere Con te Questo pensiero In vista della Pasqua Tra qualche giorno Grazie a te Se l'hai ascoltato Ti auguro Buona giornata Ciao 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 Ciao